Mi chiamo Fabio Gianotti, sono il Chief Information Security Officer di UBI Sistemi e Servizi. UBI Sistemi e Servizi è parte di un consorzio di compagnie che offrono servizi che includono banca, investimenti, insurano e real estate reale da UBI Bank. Abbiamo più di 20.000 endpoints nella organizzazione. Inizialmente, avevamo usato molte soluzioni di sicurezza di sicurezza per ottenere una vista completa Spenderemo tempo e risorse per gestire ogni prodotto e finiremo con un'esercizio e un'esercizio nei nostri processi di sicurezza. Ciò che necessitiamo davvero è una soluzione con una capacità di amministrazione centralizzata che ci darà una visibilità completa nel nostro ambiente e la protezione completa. Molti prodotti promuovono questo, ma promuovono dove un'altra cosa e la performance era un'altra. Ciò che era molto importante per noi è la simplicità della soluzione, una soluzione che è veloce per usare e facile da usare. Queste cose non erano negoziabili per noi. Quando abbiamo cominciato il POC con Cynet, lo usavamo all'interno di alcuni 100 endpoints in solo un po' ore. In realtà, era così facile di implementare che immediatamente abbiamo aumentato il numero di endpoints nel POC successivamente. La prima cosa che abbiamo notato letteralmente in minuti di usare era l'incorso della visibilità. Abbiamo potuto vedere tutto nel nostro ambiente, come l'host, l'utilizzo e il network. In termini di prevenzione e deteczione, Cynet ci ha davvero davvero avuto una copertura contro i risultati. Ogni alet viene con il completo contesto, facile da capire il rischio rischio e la risposta di raccogliere e l'azione facile da mangiare. Un'attività centrale fondamentale, insieme con questa rappresentazione clara di risultati, un grande plus per noi era Cynet l'abilità di usare l'automatica per stoppare i risultati immediatamente. Inoltre, a semplicemente essere una buona pratica di sicurezza, si tratta davvero del lavoro di nostri team, permettendo di investire il nostro tempo e il risultato in un altro posto. Sto sempre cercando di rinforzare la sicurezza mentre aumenta la nostra efficienza. Uno dei maggiori valori di Cynet è il team Cynet Ops di sicurezza. C'è l'automatica di sicurezza, quando bisognavano. Si rinforzano e completano le nostre capacità di sicurezza. E come servizio di sicurezza di sicurezza, questo mi ha giocato. Cynet ha drammaticamente consolidato e semplificato la nostra sicurezza e questo è un grande avvantaggio per noi. È la combinazione di visibilità totale nel nostro ambiente, la protezione completa e la registrazione di responsabile insieme con i servizi 24-7. Oggi Cynet è un componente core del programma di sicurezza di UBI Sistemi Servizi. Amiamo la soluzione, amiamo i servizi e speriamo di espandare la nostra relazione con Cynet.